Buongiorno e bentornati a IULO, l'arte per l'arte. La scorsa volta abbiamo visto un'opera veramente unica, di un autore veramente unico, che fa parte del periodo severo dell'arte greca, in particolare quella che fu l'evoluzione del periodo severo, venendo definito addirittura pre-classico. Stiamo parlando del discobolo di Mirone. Ecco, Mirone era un bronzista, tanto è vero che in quell'epoca, siamo intorno al 460-450 a.C. circa, la statuaria prende quell'orientamento, si abbandona il marmo, si ritiene che il bronzo sia più duttile, e poi noi sappiamo che il bronzo è una lega tra rame e stagno, quindi a seconda anche dei quantitativi che vengono messi in questa lega, può diventare più o meno lavorabile e comunque più dura del marmo, rischiava meno di rompersi. Quindi gli artisti dell'epoca di Mirone si orientano verso il bronzo. Vi era un maestro molto bravo in Grecia a quell'epoca, a Gelà del Giovane, che insegnò l'arte anche del bronzo ai suoi allievi, oltre a tante altre cose, perché era un maestro veramente bravo, fu un maestro non solo di Mirone ma anche di altri grandi, fra i quali Policleto. Policleto è l'autore di cui parleremo oggi, in particolare ci concentreremo sull'opera più nota di Policleto, che è stata definita addirittura un racconto, cioè una norma scritta, nonostante sia una semplice immagine di un portatore di lancia. Si dice proprio, venne detto proprio di Policleto, che all'interno di questo doriforo, nell'insieme di questo doriforo, si ritrovavano tutte quelle regole, tutte quelle norme, che lui scrisse proprio nel canone, del quale abbiamo solo più tre pagine, canon, e cioè le norme e le regole, per rappresentare sia la modularità, che porta chiaramente a quella che è una giusta proporzione, e quindi alla giusta simmetria, che distribuisce quelli che sono gli elementi di un corpo. Ecco, ovviamente Mirone ci parla in particolare della statuaria, perché lui è uno scultore, ma noi ritroveremo queste stesse norme sotto il nome di ordini, per quando parleremo dell'architettura, anche lì si parla di norme e di regole. Ecco, cosa fece Policleto, a differenza degli altri autori? Come mai Policleto può essere definito nel 445, solo pochi anni dopo il discopolo di Mirone, un classico, mentre Mirone viene definito un preclassico? Policleto si ispirò alla natura, non tanto a una serie di strategie che venivano utilizzate in bottega per proporzionare i corpi, ma decise di misurare la natura, di misurare l'uomo, di mettere in corrispondenza le misure delle varie parti del corpo dell'uomo, creando una sorta di media che avrebbe portato a quello che era l'uomo più possibile, l'uomo più probabile. Quindi la bellezza ideale di cui raggiunge un grande risultato Policleto e la rappresentazione dell'umano nella sua veste più probabile, più possibile. Vedremo che Perfidia sarà diverso. Ecco, quindi misurare tanti soggetti che fanno parte della natura, in questo caso si parla dell'uomo in particolare, per giungere a quella che è la più probabile immagine. Ecco, individuerà anche lui un modulo, un modulo perché lui scriverà, ci sono rimasti solo più tre fogli del suo canone, sono stati ritrovati solo più questi tre fogli, dove si parla, come dicevo prima, di simmetria, di proporzione, di modularità. Ecco, la proporzione noi sappiamo secondo la porzione, quindi secondo quello che è un elemento dell'insieme, si proporziona tutto l'insieme, secondo l'insieme questo elemento deve poter essere in relazione a questo insieme che viene generato. Ecco, il modulo, per quanto concerne lo stesso Policleto, è la testa. Ecco, lui stabilirà che la testa dell'uomo sta otto volte nel suo corpo, l'uomo proporzionato, e quindi il doriforo avrà proprio questa caratteristica, cioè quella di essere proporzionato secondo la testa, secondo una proporzione che considera la testa uno di questi moduli, la stessa testa starebbe secondo Policleto tre volte nel proprio busto e quattro volte nelle gambe. Questo è l'uomo proporzionato. Però Policleto fece ancora di più e cercò una sorta di sintesi fra quella che è la stasi e quello che è il movimento. Se pensate, non è una cosa facile quando si parla di una statua generare una sintesi tra quella che è la stasi e cioè l'immobilità e il movimento. Ecco, lui si regolò partendo in particolare da quella che era la gamba destra. Ecco, la gamba destra era la gamba che avrebbe dovuto segnalare la vita. Questa gamba era per Policleto il luogo, almeno per la statua del Doriforo, il luogo dove vi stava l'appoggio, cioè diventava una gamba portante, una struttura portante, lì scorreva il sangue per dare stabilità a tutto il corpo. L'altra gamba a quel punto poteva tranquillamente muoversi un po' in tutte le avanti, dietro, senza per questo dover fare grande fatica. Diventava in qualche modo una gamba che seppur aveva la possibilità di muoversi era grazie alla vitalità di quella che teneva in una situazione di vitalità tutto il corpo di statica ma anche di pressione che parlo della gamba destra toccando a terra dava in qualche modo vita a tutto. L'altra gamba a quel punto poteva tranquillamente ritenersi in una posizione diciamo rilassata, andava un po' dove voleva grazie a questa stabilità. Ecco, le braccia il contrario. Guardiamo bene, cioè il braccio che sta sulla destra, cioè dove la gamba dà vita al corpo è un braccio che è in posizione rilassata. L'altro braccio invece è un braccio che può reggere la lancia e quindi è un braccio nel quale scorre in maniera vitale la pressione sanguigna può cioè reggere un oggetto un po' come la gamba che sta dalla parte opposta regge il corpo. Cosa succede a questo punto? Succede che questi elementi sono in contrapposizione. Vedete, il braccio sinistro è quello vitale, la gamba destra è quella vitale, il braccio sinistro quindi rispetto alla gamba destra è come se stesse lungo una linea obliqua mentre il braccio a questo punto destro che è in posizione stante in posizione rilassata corrisponde alla gamba che può così porsi in una posizione di rilassamento e quindi che vada avanti o che vada indietro non dipende da questa gamba il fatto che il corpo riesca a rimanere assolutamente così stabile ma grazie alla pressione della gamba destra che sembra quella immobile ecco quindi abbiamo una contrapposizione vitale la gamba destra vitale il braccio sinistro rilassato il braccio destro rilassata la gamba sinistra si crea cioè quella che noi ad occhio chiameremmo una x ma esiste una lettera dell'alfabeto greco che si chiama chi dove una di queste sbarrette oblique si piega in due gambette che creano una sorta di angolo rispetto alla la gamba inclinata e quindi danno questo senso rispetto a quella che è la sbarretta inclinata che non ha queste protuberanze di maggior movimento ecco per questo questa lettera chi è adattissima a dare il nome a una contrapposizione come abbiamo ritrovato noi e cioè di un braccio vitale e la gamba vitale che sta dalla parte opposta e viceversa e per questo il contrapposto di Policleto viene anche detto Chiasmo Policleto realizzerà una sorta di arrivo una sorta di traguardo grazie a questo modo di gestire la statuaria il traguardo è quello di riuscire a creare un equilibrio tra movimento e stasi e il fatto che questo equilibrio si crea grazie alla generazione di questo contrapposto il risultato è un uomo ideale che non è altro però che un uomo più probabile nella probabilità e nella plausibilità ci sta un uomo di questo tipo dopo aver fatto tutte le misurazioni di cui vi parlavo sarà Fidia raggiungere un'altra un altro modo di proporre la bellezza ideale lo vedremo nel prossimo appuntamento di Iulo l'arte per l'arte nonostante Policleto sia contemporaneo di Fidia e anche rivali entrambi ci daranno un modo diverso di bellezza ideale o di uomo ideale grazie per la cortesa attenzione vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo l'arte per l'arte dove andremo avanti con questo lungo percorso sull'arte greca trattando questo grande della classicità che porterà all'apice quella che è la bellezza ideale portando l'uomo a essere sculturato a essere l'immagine talmente ideale che assomiglia a un dio grazie ciao al prossimo incontro